Salve ragazzi e bentornati alla carriera allenatore Allora ragazzi quest'oggi puntata molto importante perché partiremo subito a bomba con tantissimi discorsi di calciomercato e possibilmente anche con non tantissimi ma due o tre acquisti perché a questo punto ce n'è bisogno e poi raga dando un'occhiata anche al calendario molto probabilmente vedremo come minimo la partita contro il Northenton certo sarei felicissimo che in questi tre giorni accadesse il panico sul mercato però diciamo sinceramente ne dubito ma come al solito raga prima di incominciare vi invito a lasciare un mi piace ad iscrivervi al canale per restare sempre aggiornati e per continuare a supportarmi e anche a commentare qualsiasi vostro dubbio, consiglio o perplessità e a seguirmi sulla pagina Instagram, il link del profilo è come sempre in descrizione ma anche a sostenere e supportare il canale tramite una donazione grazie al link che è in descrizione fatto il solito preambolo possiamo iniziare ma andando ovviamente con ordine perché nella scorsa puntata è partito un giocatore per noi comunque importante Mallan, un centrocampista centrale 65 di overhaul quindi appunto era una pedina importante per questo aspetto ovviamente e quest'oggi proveremo a rimpiazzarla sicuramente a tutti i costi io direi di farlo già subito però ragazzi prima di andare in hub mercato voglio mostrarvi altri sei giocatori che sto seguendo praticamente raga vedo secondo me una necessità ce l'ho fatta di provare a prendere un difensore centrale anche dal piede sinistro quindi ne ho cercato un po' e secondo me quelli più credibili, più fattibili sono questi sei quindi abbiamo un giocatore svedese del Gothenburg appunto Bangsbo chiaro dia del Verde Brema che quest'anno diciamo è un talento molto conosciuto su FIFA quest'anno per conto mio sempre nella carriera con lo Stockport lo uso diciamo il mio difensore centrale e titolare ed effettivamente è un bel giocatore non c'è dubbio, cresce tanto Kamara del Gegamp 20 anni, ottimo anche lui e poi ragazzi lui che secondo me è proprio di un realismo ma di un realismo quasi imbarazzante perché Ed Turns viene dal Leighton Orient non è prestato, è proprio del Leighton Orient ed è effettivamente un giocatore molto talentuoso che si potrebbe affiancare benissimo a Phillips a questo punto e si potrebbe creare una bella coppia di centrali però ragazzi attenzione perché qui c'è in un certo senso anche il rischio di modificare già a primo anno tutta la squadra sinceramente non è il mio obiettivo però questi giovani secondo me se non li prendi mo' non li prendi più quindi proprio per questo motivo diciamo quando vedo che ho già un giocatore che mi sembra pronto diciamo che provo a fare il sacrificio e quindi provo a fare il mercato appunto poi per concludere qui il discorso sui difensori abbiamo Haidaris svizzero del Lugano appunto anche lui diciamo è qualche anno che è considerato un buon talento e per finire un giocatore danese dal Copenhagen Valdemar Land che solamente per il nome Valdemar secondo me andrebbe preso però già dopo questo discorso potete intubire già subito qual è teoricamente la mia preferenza comunque ragazzi siamo adesso in hub mercato perché bisogna prendere i primi il centrocampista ma non dimentichiamoci anche del portiere perché adesso portiere e centrocampista sono scoperti diciamo le posizioni perché appunto aspettiamo sempre che arrivino delle offerte di fare effettivamente mercato anche in uscita però le offerte scarseggiano e anche abbastanza allora per quanto riguarda il portiere visto che Caprile diciamo che è un portiere che secondo me sarebbe carino da prendere in questa carriera in futuro però attualmente non è proprio fattibile Turati è prestato questo Garrido del Leganest costa pochissimo uno stipendio bassissimo rientra perfettamente nei nostri parametri però è solamente un 59 e più che altro abbiamo altri giocatori interessanti per esempio questo Popa rumeno del Cracovia appunto un 65 ha praticamente il prezzo bloccato quindi un milione e mezzo e viene via cioè a questo punto si potrebbe anche fare l'investimento così appunto riesci ad avere già un portiere competitivo poi uno che sarebbe ottimo questo Pinargote Pinargote penso visto che è quadoregno vale solamente 650.000 euro il portiere è un 61 è una via di mezzo perfetta poi per concludere il quarto portiere è Doven o Dovin non so ragazzi Oliver appunto svedese anche lui dell'Amarby 20 anni 64 un milione e due e cinquanta ragazzi si casca bene in tutti i casi visto che secondo me ci sono anche i soldini si può provare a prendere Popa perché ragazzi dico che ci sono i soldini perché appunto adesso oltre a portiere a centrocampista non dobbiamo prendere più nessuno nel senso che se non esce prima qualcuno io non acquisterò più perché abbiamo poi effettivamente troppi giocatori e non voglio avere un soprannumero quindi sicuramente vado a fare l'investimento per un portiere come Popa però ragazzi vediamo perché può essere che chiedano troppo roba del genere quindi proviamo a trattare nel caso vada male sinceramente mi butterei sullo svedese qui comunque eccoci qua a trattare come sempre provo anche qualche scambio ragazzi eh chi vi posso mettere in mezzo per esempio questo Watson no? questo Watson che cosa ne pensate? ti do anche 800.000 euro eh? mi sembra un'offerta equa no vogliono solamente soldi ma vogliono anche troppo secondo me facciamo 1,4 vediamo che dicono 1,5 va benissimo rimango su 1,4 sinceramente accettati e beh ragazzi forse potevo fare 1,2 1,3 però secondo me arrivavamo sempre ad 1,4 quindi comunque meno rispetto al suo valore 100.000 euro in meno e visto che ho detto che sono disposto anche a fare questo piccolo investimento voglio un portiere giovane che lo prendi mo e te lo porti fino in premier nella speranza che appunto non sia una busta no? in un certo senso quindi andiamo a trattare con il portiere poi ragazzi è rumeno storicamente con noi i giocatori del Romania ci sono sempre comportati bene quindi appunto sono fiducioso anche in questo caso giustamente vuole essere cruciale perché appunto è un 65 e scende nell'ultima serie inglese ci sta benissimo 5 anni di contratto nessuna clausola recissoria e lo stipendio che se lo alza un pochino ma tutto sommato è fattibilissimo cioè io farei semplicemente così 1500 e infatti accetta benissimo primo acquisto fatto arriva finalmente il portiere che tanto desideravo vediamo anche FIFA come ci valuta questa trattativa con i Cracovia vediamo un po' valutazione l'overall B perché addirittura 1,1 che secondo me non è vero cioè era praticamente impossibile poi ragazzi continuando continuando abbiamo detto anche il centrocampista centrocampista che secondo me è da scegliere fra vari giocatori allora io vorrei un piede destro e su questo siamo sicuri della cosa c'è questo Terry Taylor che è molto interessante molto equilibrato però è un cdc secondo me diciamo un po' più giù c'è di meglio in certo senso perché abbiamo allora giocatori come Aziz del Wigan che vale veramente poco e ragazzi in questo caso bisogna guardare le statistiche sembra essere molto interessante ragazzi più che altro mi ispira proprio ad istinto cioè a pelle quindi tramite l'istinto comunque abbiamo questo Balasigi che è prestato quindi diciamo non è fattibile uno che secondo me è molto molto forte Bah che costa abbastanza rispetto agli altri però è del Sunderland è molto rapido ragazzi cc cc quindi vuol dire che in parte è più offensivo triplatore tecnico francese ragazzi questo qua secondo me è bello forte e per concludere un altro svedese ma non si priveranno di questo giocatore quindi è inutile che guardo le statistiche altrimenti ci rimango male vabbè a sto punto Bah sembra essere si è equilibrato ma anche forte in certe caratteristiche ecco allora ragazzi ma io vorrei restare sicuramente di sotto del suo valore quindi massimo 1.3 1.350 però se mi vengono a chiedere più di 1.50 1.6 andrei sinceramente su Aziz quindi la scelta è fra loro due e quindi proviamo prima per Bah che comunque è del Sunderland è un ragazzino diciamo con il realismo proprio non ci possiamo lamentare comunque ragazzi io non demordo anche in questo caso provo a piazzare uno scambio Ryan Watson più 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 800.000 anche in questo caso vediamo che dicono sono interessati madonna ragazzi rimuovi la rimuovi la clausola immediatamente riproponi la stessa offerta 8.50 ragazzi complessivamente è un'offerta 8.4 12 di 1.250 ma accetta subito ragazzi ci liberiamo anche di un altro centrocampista 29enne lo mandiamo a Sunderland ragazzi secondo me va benissimo però diciamo dopo questo acquisto bisognerà dare un'altra volta un'occhiata alla nostra hub ovviamente e per hub intendo hub rosa in questo caso e non hub mercato lui vuole essere importante non cruciale perché non è 65 diciamoci può stare può avere senso 5 anni di contratto nessuna clausola recissoria lo stipendio che se lo vuole mantenere uguale ma io se riesco lo vorrei abbassare a 2000 e qua ti darei anche 50.000 euro secondo me ragazzi ci sta benissimo vediamo no no però però è aumentata di pochissimo lì la barra della tensione quindi sono disposto a fare anche 100.000 euro visto che alla fine ho risparmiato nella trattativa con la squadra e infatti ragazzi grazie al bonus accetta e arrivano due colpi in una in un colpo solo vabbè comunque appunto arriva un centrocampista francese che ragazzi secondo me questo qui è bello forte secondo me ci darà tante soddisfazioni e adesso abbiamo appunto due centrocampisti molto interessanti e adesso sto pensando quasi di prendere un altro e purtroppo ragazzi non ce la faccio a non cambiare tutta la squadra evidentemente comunque nuovo resoconto per noi allora in porta adesso stiamo a posto abbiamo questo popa che si è preso automaticamente il numero uno ok tanti margini di crescita per lui appunto adesso abbiamo questo kainz che ragazzi secondo me me lo tengo fino a gennaio poi il flitwood se lo richiamerà perché inizierà a non farlo giocare più quindi mi tengo questo torrens che mi farà da secondo portiere anche se alla fine giocherà sempre popa quindi il portiere il problema del portiere l'abbiamo risolto poi sulla sinistra voglio provare a vendere questo bercoi che infatti è sul mercato abbiamo turei e appunto vorrei prendere un altro terzino in difesa ragazzi in difesa abbiamo attualmente quattro centrocampisti ne vorrei prendere un altro da piede sinistro come avete visto ad inizio video vorrei giocare con philips ho messo un artè sul mercato leak voglio che resti a suo punto stessa cosa anche per baster cioè vorrei mettere due giovani tipo philips e un altro da piede sinistro e appunto in panchina a far quasi da chioccia leak che comunque ha 24 anni quindi è pure giovane e sulla destra baster anche lui 25 anni quindi raga secondo me ci sta benissimo e per fine anno l'obiettivo è far crescere sia philips che l'eventuale nuovo difensore centrale farli crescere a tal punto da superare sia leak che baster secondo me anche questo qui è un obiettivo molto carino e interessante poi terzini destri a posto con bolton che deve crescere bolton sembra essere effettivamente forte shepherd come sostituto va benissimo centrocampo ragazzi centrocampo sempre con questi due centrocampisti che appunto questi due cdc che sono prestati che appunto potrebbero essere utili ragazzi non lo so io sono convinto che a prescindere verranno richiamati perché fifa funziona così ci sono abituati in questo modo diciamo per non essere richiamati i giocatori prestati devono giocare veramente tutte ma proprio tutte comunque ragazzi calabret voglio mettere anche lui centrocampista centrale perché alla fine come cdc abbiamo watt 22 n 66 e a sto punto come sostituto ha molto più senso mettere low almeno per questa stagione perché dalle statistiche secondo me è ottimo e poi ragazzi calabret ci ha fatto gol nella scorsa puntata nel momento in cui ho messo centrocampista centrale secondo me questo qui è anche un segno del destino stessa cosa per questo jankins che ragazzi sicuramente vedrà poco il campo quindi sicuramente lui verrà richiamato da leeds galabret ragazzi diciamo che lo rendo primo sostituto a questo punto e appunto ragazzi di sostituti sicuramente centrocampo bisogna vendere questi due giovani ragazzi anderson e porter però sono 2.50 è veramente complicato che arrivino delle offerte porter fortunatamente a meno del contratto di scadenza invece anderson eventualmente un altro anno quindi facciamo attenzione comunque per essere precisi perché non lo sono stato secondo me allora come il cdc il titolare Watt lo il suo sostituto e quindi a posto invece proprio al centrocampo abbiamo escludendo un attimo i giocatori prestati ma proprio per un attimo Ba che è appena arrivato e Warton che secondo me vanno fatti giocare titolari ovviamente perché appunto sono degli acquisti e sono estremamente giovani Ba avrebbe giocato da prescindere perché mi sembra un animaluccio questo giocatore invece Warton voglio farlo giocare io perché secondo me merita la fiducia anche se alla forma scarsa come è possibile è arrivato ieri e quindi questi qua dovrebbero essere titolari sulla carta e a questo punto in panchina abbiamo sicuramente Land e a suo punto stavo pensando eventualmente di prendermi un altro centrocampista ancora da piede sinistro così da avere addirittura un reparto sul centro-sinistra totalmente rivoluzionato però ragazzi allo stesso tempo penso che abbiamo sia questi due Porter e Anderson che comunque ragazzi anche se non giocano comunque ci sono e fanno numero e non mi piace avere poi troppi giocatori quindi anche se non li calcolo comunque ci sono quindi abbiamo due giocatori in più e soprattutto abbiamo questi due prestiti soprattutto ragazzi Galbraith perché Galbraith sicuramente me lo porterò quasi sempre in panchina perché appunto ha dimostrato di essere comunque forte sia nelle amichevoli ma anche nelle partite ufficiali quindi appunto merita almeno di stare sempre in panchina ecco magari può essere che se lo facciamo entrare tipo ogni partita secondo il gioco appunto entra in campo sempre quindi gioca e può essere che non me lo richiamano però boh è veramente stranissima sta cosa dei prestiti perché FIFA ovviamente funziona male anche su questo comunque ragazzi appunto per concludere il discorso Land sicuramente sostituto diciamo destra sinistra a questo punto non fa differenza e Galbraith e anche Yankins quindi raga diciamo non posso permettermi di fare altri acquisti al centro campo perché dovrei mettere tipo sul mercato Land però ragazzi non lo so devo andare a controllare pure se ho effettivamente un centrocampista dal piede sinistro se proprio voglio prendere un altro perché prendimi per esempio pure Aziz secondo me non mi sembra il caso perché poi andrebbe anche a calpestare i piedi a base secondo me perché sono due giovani e quindi hanno quasi lo stesso overall quindi diciamo potrebbe esserci troppa competizione per esempio ragazzi un esempio veramente pratico Bolton e Shepard hanno lo stesso overall però visto che Shepard ha addirittura cinque anni in più rispetto a Bolton ovviamente diciamo la gerarchia è chiara Bolton è più giovane gioca lui sicuramente fra un paio di mesi sarà minimo 65 e quindi inizierà ad esserci anche una differenza di overall comunque per chiudere il discorso visto che come sempre in questi casi parlo come non so chi comunque abbiamo Veil che vabbè sarà l'ala destra insieme a Bae Lee ecco in questo caso pure potrebbe esserci un po' un calpestamento di piedi però ragazzi finché Bae Lee continua a giocarmi in questo modo devo farlo giocare perché appunto ne va anche del bene della squadra poi sulla sinistra si muoisce McKinley che per questa prima stagione secondo me vanno benissimo perché ragazzi non voglio rivoluzionare ogni reparto sinceramente quindi secondo me appunto lasciamo le cose come stanno comunque è un 22N sta giocando bene mi sta impressionando è velocissimo e sembra essere abbastanza buggato anche e poi McKinley come sostituto 29N per questo primo anno va benissimo e per finire ragazzi in attacco qua alla fine sono giunto a delle conclusioni oltre a questo Smith che è perennemente sul mercato alla fine visto che comunque ho in hub mercato delle punte veramente interessanti che secondo me avrebbero prese subito già da questa stagione ho deciso di mettere sul mercato sia questo giovane Tolai che si è è un 20N però non è che abbia queste statistiche impressionate nel senso non si sentirà la mancanza eventualmente anche se mi sto contraddicendo rispetto a quello che ho detto nelle scorse puntate però ragazzi secondo me ha più senso far così quindi ho messo anche Henry addirittura sul mercato nella speranza che arrivino delle offerte però ragazzi se non arriva nessuna offerta gli attaccanti resteranno questi neanche a dirlo comunque ragazzi un discorso lunghissimo mi sono giocato già tutto l'episodio però ragazzi era veramente doveroso perché mai come in questi casi è fondamentale essere chiari comunque ragazzi mi aspettavo almeno un'offertina qualcosa andiamo avanti a sto punto raga non so neanche se giocarmi la partita o meno perché già il video sta sui 20 minuti comunque la registrazione effettivamente ho parlato per tutto il video quindi effettivamente dovrebbero essere 20 minuti quindi potrei effettivamente fermarmi già qua però ancora dobbiamo finire perché allora innanzitutto veil che mostra un ottimo potenziale diventa ufficialmente un alla destra e diventa ufficialmente anche un 64 di overhaul quindi ottima cosa adesso siamo ancora più precisi con le posizioni effettivamente ragazzi diciamo se resta pure l'anno prossimo lo potrei addirittura riscindere a Henderson diciamo ci stavo pensando adesso comunque per finire appunto vi stavo parlando dell'eventuale centrocampista e degli eventuali attaccanti quindi andiamo a dare un occhio anzi voglio fare un discorso ancora più completo perché appunto ci sono delle posizioni dove vorrei ancora investire e appunto a questo punto vi dico che in porta abbiamo risolto siamo a posto non ci interessa più invece i difensori centrali aspetto aspetto ragazzi che appunto arrivino i resoconti e a questo punto ragazzi Wood in un certo senso lo abbandono lo lasciamo qui eventualmente chissà anche l'anno prossimo potrebbe tornarci utile perché secondo me quest'idea di avere tipo Phillips è un altro giovane anche al di sotto comunque sul 60 che durante l'anno giochi sempre quindi cresca è molto interessante e poi se eventualmente arriveranno delle offerte senza che io le abbia messi sul mercato per Lick e Vassel che sarebbero i due difensori centrali più esperti che già sono in rosa comunque esperti 24-25 anni ma che sono vecchi sicuramente andrei su Wood neanche a dirlo e quindi i difensori centrali per il momento non ci interessa aspettiamo i resoconti che spero che per fine mercato arriveranno ma assolutamente sì penso comunque il terzino sinistro che effettivamente ci serve Fleming secondo me era bellissimo da prendere perché appunto è un giocatore che già diciamo è rinomato e conosciuto per così dire però è prestato quindi niente da fare Osterwald costa troppo invece uno che secondo me è perfetto è Sorkin però anche lui non costa poco e oltre a lui non è che ho attraggente quindi diciamo se avanzano i soldi proverai a fare anche l'investimento per Sorkin o comunque un prestito lo buttiamo in mezzo un prestito non lo so perché da quello che so io poi eventualmente se tu vuoi fare un prestito con diritto di riscatto i soldi per il riscatto li devi avere già in quel momento nel tuo budget altrimenti non si può fare comunque ragazzi continuando a centro campo appunto il mancino sarebbe patino il mancino sarebbe bait ma sono entrambi prestati quindi è stato bello e appunto non ho più mancini quindi ragazzi a maggior ragione secondo me quest'anno è poco fattibile ma dall'anno prossimo già diciamo potrebbero cambiare tantissime cose poi ragazzi continuando continuando centro campo apposto in attacco le ali siamo apposto la punta ragazzi la punta allora ah Salle è andato all'Atalanta ragazzi questo giocatore me ne starei parlando tutti quanti benissimo soprattutto appunto nei primi video e comunque nei primi video della serie ovviamente e diciamo questo l'ho acquistato subito da una squadra molto importante come l'Atalanta considerando che era l'Addesfield quindi vuol dire che effettivamente è un talento molto molto importante quindi magari chissà in futuro anche lui poi appunto i centro avanti ragazzi allora ce ne sono veramente tanti che sono anche per il mio stile perché appunto c'è questo Simpson che è bello rapido e veloce a me piacciono i centro avanti così certo dovrebbero migliorare molto sul tiro poi ragazzi abbiamo Charlie Kelman prestato Tezkel che sia interessante che abbia 16 anni però appunto è abbastanza lento molto molto acerbo tantissimo a sto punto mi tengo tolai sinceramente poi abbiamo Stasfield ha prestato anche lui e Tete ragazzi lui è molto molto interessante potrebbe essere veramente un bel centro avanti un numero 9 87 di forza addirittura ma anche abbastanza rapido perché 70 e 74 non è poco poi Hackford ragazzi Hackford cioè se partono tutti e due centro avanti io penso di prendere lui perché se la metto il 59 anche in questo caso è interessante la cosa che possa crescere insieme a noi il giocatore dallo Sheffield quindi realistico costa pochissimo sarebbe bellissimo fare tipo che ci prendiamo un giocatore al di sotto del 60 come facciamo con i Borton con Ricky Jones che era appunto il 59 superò abbondantemente l'80 se non l'85 addirittura cioè è una cosa bellissima che tu fai crescere di più di 30 punti di un giocatore cioè è una cosa che proprio a me fa impazzire quindi potrebbe essere Ricky Jones di questa carriera Anthony Antoine non so come si chiama comunque Hackford vabbè lasciamo stare i nomi quindi raga vi dico già che molto probabilmente eventualmente se i tre attaccanti o comunque almeno due attaccanti partano la prima scelta sarà lui perché ragazzi quello Smith quel gigante Smith penso di non calcolarlo proprio oggi sono proprio bravo a parlare e per finire ragazzi sempre come punta abbiamo questo Jabison sempre dello Sheffield però appunto 65 molto forte anche lui però a suo punto andrebbe molto a scontrarsi con Morton a 1,77 invece Jabison è velocissimo ma è alto pure 1,90 questo qui è un bug assoluto questo giocatore quindi ragazzi direi che ci siamo abbiamo parlato anche di quest'altro piccolo aspetto e quindi raga sinceramente visto che secondo me la durata del video è già soddisfacente per appunto costruire un bel episodio direi di fermarsi qua ragazzi oggi è proprio una puntata che piace a me perché a me piace mettermi qui e parlare appunto degli eventuali acquisti di quello che mi piacerebbe fare diciamo parlando anche molto in prospettiva appunto questa cosa di prendere un giocatore molto basso di ovvero portarlo ad un livello incredibile secondo me è anche il bello di queste carriere rotto glory quindi mi spiace essere andato poco avanti ma a parte tutto sono arrivati due acquisti e penso di essere stato veramente chiaro su come voglio muovermi e questa qui è la mia idea definitiva nel senso non credo che cambierò ancora l'idea metterò in vendita i difensori centrali per prendermi Wood no penso di restare così perché appunto è interessante questa cosa del giovanissimo che cresce quindi ragazzi io per l'appunto per oggi mi fermo qua purtroppo queste partite in mezzo danno un po' fastidio ma diciamo si sa che il campionato in queste serie inizia veramente prestissimo perché ragazzi sono 46 partite in campionato e bisogna considerare anche tutte le coppe inglesi che ci sono quindi ragazzi saranno delle stagioni veramente lunghe quindi io per l'appunto per oggi mi fermo qua come al solito vi invito a lasciare un mi piace iscrivetevi al canale a seguirmi sulla pagina instagram a sostenere il canale tramite una donazione noi ci vediamo alla prossima e ciao a tutti